Allora, appena finita, Atalanta, Real Madrid 1-0, goal di Mendy al novantesimo, ottantanoesimo, voi lo sapete, su questo canale non si parla di arbitri, perché è la scusa dei perdenti, però va un attimo contestualizzato. Non c'è una spiegazione che si può dare a quel rosso a Freuler, perché io l'ho analizzato in tutti i modi. Tra l'altro, all'inizio ho anche provato a giustificarla, nel senso, gli arbitri tedeschi tendono ad essere un po' più severi. Quindi, però poi, il fallo di Lucas Vázquez di mano al sessantesimo, un altro intervento, mi sembra, di Modric a centrocampo, non sanzionati, né giallo, né niente, allora di che parliamo? Io qui non voglio puntare il dito, però veramente Real Madrid, un modo per sfangarla, lo trova sempre, lo trova sempre. E questo è triste, è triste perché veramente qui abbiamo la Lazio che si è fatta autogol da solo, e già era più o meno condannata. L'Inter è uscita, la Juventus si è fatta gol da sola. Vediamo il Napoli se rimonta, ma ho dubbi. E qui poi, l'Atalanta la buttano fuori così, perché adesso sì, 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 secondo me si può rimontare, attenzione, però è difficile, è difficile, molto, molto difficile, perché devi andare là, devi fare almeno due. E poi devi vedere quanti ne prendi. Perché se ne prendi zero va bene, se ne prendi uno va bene, poi non va bene più. Quindi vediamo, però ragazzi, il Real Madrid veramente, questo è il Real Madrid più scarso che io abbia mai visto. È il Real Madrid più scarso che io abbia mai visto. Ma penso più scarso degli ultimi 30-40 anni. C'è una cosa veramente immonda, immonda. L'Atalanta ha fatto una grande partita, secondo me, perché non si è chiusa, non si è abbassata, ha tenuto il ritmo, poi spezzandolo nei momenti giusti. Toloi, Romero e Jim City sembravano Nesta, Maldini e Cannavaro. Appena ha abbassato di un pochino i ritmi, poco poco, e già si vedeva quando Toloi, anziché prendersi il rischio di metterla fuori, la mette in calcio d'angolo, lì già me lo sentivo, infatti preso gol. Ma vabbè, è un caso che subito dopo, però insomma lì è calato un attimo, secondo me si sentivano un attimo più, ci dobbiamo prendere questo 0-0 a tutti i costi, lo sentivano più vicino e ci sta, ci sta, perché in dieci, dal che minuto era? Il tredicesimo, il dodicesimo, una cosa vergognosa, secondo me, vergognosa. Grande partita dell'Atalanta, tutti tranne Ilicic, che è stato praticamente un altro uomo in meno, ed hanno giocato in nove praticamente, e Casperini per disperazione l'ha tolto. Ora io non sono un estimatore di Casperini, lo sapete, come persona diciamo, però Casperini, chapeau, grande allenatore, partita preparata e rimodellata dopo l'uomo in meno, alla perfezione, alla perfezione. Complimenti a Casperini, complimenti all'Atalanta, perché hanno fatto una partita oggettivamente ai limiti dell'impossibile, perché poi sarà anche il Real più scarso della storia, però è il Real Madrid, è il Real Madrid, che ha comunque tantissime assenze, e comunque ti va a mettere in campo giocatori come Cross, Mariano Diaz, Casemiro, veramente, è veramente difficile questa squadra, e mi viene da piangere veramente, perché l'Inter è riuscito a farsi buttare fuori da questi, e l'Atalanta, non per demeriti Atalantini, ma perché Steiner, come si chiama lui, cioè, lì non c'è il sé, io ho letto qualcuno, non tanti, cioè, 99 su 100 hanno detto che non era rigore, qualcuno ha detto che non era rosso, qualcuno ha detto che era rosso, ma, ma veramente, ma veramente ragazzi, allora, lì non è l'ultimo uomo, perché c'è Toloi che copre dall'altra parte, se non sbaglio, non è chiara occasione da goal, perché? Perché il giocatore del Real, che non vi ricordo, Cross forse, se vedete, fa il passo a defilarsi fuori dall'area di rigore, a defilarsi verso la sinistra, quindi non va più fronte alla porta, ma di là, e dall'altra parte c'è Toloi, quindi non è chiara occasione da goal, non è ultimo uomo, non c'è motivo, eccola qua, la stanno facendo rivedere, no, è Mariano Diaz, no, è Mariano Diaz, vabbè, non è importante, qui la stanno facendo rivedere, se ascoltiamo anche quello che dicono, ah, Vinicio Sioner, Lo dicono un po' tutti, è una vergogna, secondo me, e mi auguro che siano date delle delucidazioni in merito, perché non è possibile che all'epoca del VAR succedano certe cose, perché l'arbitro non può andare a vedere se ha giudicato l'entità del contatto, ma in questo caso è chiaro che non è un fallo cattivo, è un fallo normalissimo, quindi l'arbitro non ha estratto il rosso perché è un fallo da rosso, ha estratto il rosso perché ha valutato una situazione, cioè che o Vinicio Sera fronte alla porta, o che dall'altra parte non c'era Toloi e quindi era l'ultimo uomo, una delle due cose ha valutato, non si sa, è lì, il VAR che fa? Che fa? Dormono? Sveglia! Non lo so ragazzi, per il ritorno vediamo, ripeto l'Atalanta ce la può fare, ha giocato una grandissima partita, quindi complimenti all'Atalanta, complimenti veramente, e c'è poco da dire, commentare la partita mi sembra superflua anche, che tra l'altro Real non è che abbia creato poi chissà quali pericoli, però merito sicuramente di Romero, e Toloi che è veramente due mostri, ti sono immolati veramente eroici, ma anche Deron, Gosens, peccato, peccato perché, peccato per Zapata che si è fatto male, Ilicic che è entrato e praticamente ha giocato con Real Madrid, peccato, peccato, staremo a vedere ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, non mi scrivete, vi prego, non mi scrivete che è un fallo da rosso, perché altrimenti bisogna cambiare sport, si può essere anche anti-Atalantini, per dire, ma non si può dire, quindi non lo so, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale ovviamente, lasciate un mi piace, un dislike se non vi è piaciuto, ma fatemi sapere il perché, e recuperate il video sfogo del fantacalcio, lo trovate subito dopo di questo, seguitemi su Instagram e sulla pagina Facebook, ciao ragazzi!